ciao a tutti bentornati al mio canale oggi vi farò vedere come farsi un rossetto fai da te molto molto carino e molto idratante e ha un bellissimo colore e in più quello che mi è piaciuto è che ho riciclato dei rossetti che ormai non sta utilizzando sia perché o mi erano finiti o perché non mi piaceva il colore avevo sbagliato il colore quando l'avevo preso semplicemente perché stavano lì nella mia pochette e non lo utilizzavo più quindi se siete interessati a sapere come si fa seguite il tutorial ci occorrono dei vecchi rossetti che un contenitore e una ciotolina stuzzicadenti e un obietto di questi qua che si trovano dai kinder un po' d'olio d'oliva utilizzerò una candela mi raccomando se siete minorenni dovete chiedere il permesso e l'aiuto ai vostri genitori o alla vostra sorella il contenitore andrò a mettere quello che mi resta del mio rosetto vedete io a questo punto già lo avrei buttato altrimenti come faccio io per prendere queste cose quindi mi aiuto questi contenitori qua per cortesia non buttarli che più avanti vi farò vedere altre cose in casa lì altre cose fai da te prendo anche questo che praticamente diciamo è come nuovo però a me il colore per le mie carnagioni non va bene e andrò a mescolare soltanto un po' a questo composto qua questi rossetti così andrò a mettere qualche goccina d'olio d'oliva andrò a e vediamo si inizia a sciogliere sta venendo un colore molto carino mi raccomando dobbiamo stare attenti a non bruciarci si sta scaldando quindi vi potete scotare scotare un po' continuo a mescolare nel frattempo prendo il mio kinder taglio questa parte qua che non mi serve e andrò con olio d'olio d'oliva sulla parte più diciamo non il tappo ok mi aiuto con un tappo io ho riciclato questo che mi è piaciuto della coca cola andrò a mettere il mio il mio stampo e vedete già si è sciolta e andrò a mettere tutto il composto lì e lo lacerò raffreddare come vedete la prima parte è fatta facendo molta attenzione andrò ad acacciarlo eccolo qui lo capovolgo così come sta come è uscito lo posso mettere anche qua sopra lo lascio allora e adesso quello che devo fare è cercare di scioglierle di sciogliere la seconda parte del composto qua ho messo altri altre cose e andrò a scioglierle mi raccomando fate molta attenzione allora faccio lo stesso quindi verso il mio composto adesso si deve raffreddare adesso ho qui questa che è già se è dura vedete e per unire il composto è molto semplice i residui che erano finiti qua li andrò a scaldare due o tre secondi e verserò e questo qui il risultato finale io spero che il video vi sia piaciuto e scrivetemi qui sotto nei commenti qualsiasi cosa qualsiasi altra richiesta e ve ne farò altri rosetti sempre fai da te in maniera casalinga e io spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un grande beso e vi rimando al prossimo video tutorial ciao